Durante una diretta su Twitch con lo streamer Grenbaud, Fedez ha parlato della sua relazione con Chiara Ferragni, ormai conclusa da tempo. Senza attribuire colpe specifiche, ha definito la loro relazione tossica, raccontando come entrambi si facevano del male, a vicenda ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, ha dichiarato il rapper, sottolineando come la fine della relazione abbia portato anche alla chiusura con l'intero ambiente circostante. Ha confessato di non aver mai sopportato l'ambiente sociale di Chiara, evitando spesso uscite e vacanze con quelle persone. Secondo le indiscrezioni diffuse da Fabrizio Corona, Chiara Ferragni avrebbe richiesto il divorzio e ora pretenderebbe 40.000 euro di alimenti al mese da Fedez. Tuttavia l'avvocato della Ferragni, Daniela Missaglia, ha smentito tali notizie definendole senza fondamento. Attualmente sono i due figli, Leone e Vittoria, a mantenere un legame tra gli ex coniugi sono una ragione per vivere, ha affermato Fedez, aggiungendo, le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo. Il rapper ha ribadito il suo impegno a trascorrere più tempo possibile con i suoi bambini. Sul fronte sentimentale, Fedez è stato visto il Gran Premio di Monte Carlo insieme alla modella francese Garance Autier. Professionalmente non esclude una partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dichiarando che parteciperebbe con l'idea giusta e che finalmente sarebbe libero di fare il cio che voglio. Ha fatto riferimento all'edizione del 2023, quando un bacio con Rosa Chemical aveva provocato una crisi con Chiara Ferragni, all'epoca co-conduttrice del Festival. Giulia